L'Osservatorio regionale del turismo ha svolto un sondaggio fra gli operatori del settore sulle previsioni dell'andamento del periodo turistico pasquale in Puglia. L'indagine ha coinvolto circa 5.000 strutture ricettive con un sondaggio online. Hanno risposto 506 strutture ricettive, circa il 10% del totale, un campione rappresentativo. Particolarmente alta la risposta del Salento, con il 53% di rappresentatività sul totale dei questionari esaminati. Gli operatori indicano per la Pasqua 2017 un andamento di sostanziale stabilità rispetto ai già buoni risultati del 2016, che aveva registrato per Pasqua un incremento del 20% delle presenze. Nel report vengono indicate anche le previsioni estive per area territoriale. Bari e la Costa, il Salento e la Valle d'Itria evidenziano la maggior dinamicità anche per il 2017, ha commentato l'assessore all'industria turistica e culturale Loredana Capone. Un dato però invita a riflettere. Pochi operatori, il 23%, hanno promosso iniziative speciali in occasione della Pasqua, a riprova ancora di una scarsa capacità nell'innovare e integrare la propria offerta, nonostante il 48% degli operatori indichino come necessaria per il successo di una destinazione turistica la promozione di prodotti turistici specifici. Per questo dobbiamo fare un maggiore sforzo, conclude l'assessore, così come prevede lo stesso piano strategico del turismo Puglia 365, per costruire pacchetti mirati per prodotti e periodi dell'anno, in modo da attirare ancora più viaggiatori tutto l'anno.